Mentre il mondo grida al complotto e tutto ciò che è stato, e verrà, pubblicato da Kensington Palace, e non solo, è messo in dubbio Louise Windsor, la nipote prediletta di Elise. Mentre il mondo grida al complotto e tutto ciò che è stato, e verrà, pubblicato da Kensington Palace. Ciò che più colpisce però è la somiglianza con la 90 anni, studentessa universitaria modello alla St. Andrews University, dove studia inglese, scelta che già prima di lei avevano fatto William e Kate, che si conobbero proprio St. Andrews. I suoi genitori, i duchi di Edimburgo, frequentano da vent'anni la località sciistica e non è dunque una sorpresa trovarla lì in compagnia, però, di sole, Lady Louise si è dedicata quasi esclusivamente allo sci, pochissime le uscite dalla villa che la ospitava, con le ragazze ha fatto una capatina alla discoteca Dracula e poi hanno mangiato in un notoris, secondo voci di palazzi molti scalpiterebbero per poter coinvolgere la giovane, studentessa universitaria modello. Nell'impegni ufficiale